Io credo che per quanto mi riguarda tornare su questo stadio dove ho avuto la fortuna e l'onore di giocarci in una tifoseria che la mia non è carineria ma una tifoseria che mi ha dato tanto porto nel mio cuore tanti episodi e tante gare fatte su questo stadio quindi voglio dire da parte mia c'era un pizzico di emozione di tornarci anche se non è la vera Ischia ma non per fortuna fa un campionato diverso, importante spero che si salva quanto prima e una parte di me rimane legata a questo stadio, a questa tifoseria, a questa piazza Mister Nudo lo seguo ancora, l'Ischia in lega pro, l'attuale Ischia sulla verde è un momento molto difficile, lei pensa che l'Ischia si possa salvare ma soprattutto quali sono le carenze in questo momento che stanno rendendo il momento giallo bene molto molto difficile quattro sconfitte consecutive, terzo ultimo posto in classifica, situazione un po' complicata seguo tanto l'Ischia come voglio dire, è giusto per un allenatore seguire un pochettino tutto il calcio in generale voglio dire poi in più c'è l'affetto che mi lega a questi colori io credo che innanzitutto questa squadra debba avere continuità e debba trovare le giuste motivazioni per poter tirarsi fuori da un momento negativo, hanno un tecnico importante purtroppo la striscia negativa li tira molto giù in classifica spero che possano da domenica prossima in casa iniziare un pochettino a cambiare rotta e a cercare di salvare perché questa piazza voglio dire non può ritornare nel calcio che è tantissimo e merita sicuramente palcoscenici diversi